Sono delle modalità... Riaperture, scostamento di bilancio e opere messe in cantiere. Diverse le novità annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, durante la conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle e le scuole di ogni ordine e grado riapriranno completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Dalla stessa data i ristoranti potranno aprire con i tavoli all'aperto anche la sera, dopodiché inizierà un percorso graduato. Dal 15 maggio potranno riaprire le piscine all'aperto, dal 1 giugno le attività legate alle palestre e dal 1 luglio quelle fieristiche. Al momento il coprifuoco resta alle ore 22. Il Governo, ha detto il Premier, con questa decisione ha preso un rischio ragionato e fondato sui dati, il miglioramento della pandemia. È un'opportunità straordinaria per l'economia e per la nostra vita sociale, ha detto Draghi, ma è fondamentale il rispetto scrupoloso delle norme anticontagio e dei protocolli di sicurezza. Necessarie quindi le verifiche da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. I nuovi provvedimenti riguardano anche musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi e stabilimenti termali. Gli spostamenti invece saranno concessi tra regioni gialle e poi con un certificato fra regioni di colore diverso. Sono stati annunciati anche nuovi aiuti economici. Inoltre il Governo ha nominato 29 commissari straordinari per gestire 57 opere pubbliche. Tra queste rientra anche la Fano Grosseto e colui che dovrà occuparsi di questa importante infrastruttura sarà Massimo Simonini, amministratore, delegato e direttore generale di ANAS. Altra buona notizia per le Marche è che, come da decreto e visto il calo di contagio e ricoveri, si conferma la zona arancione per la prossima settimana. Grazie a tutti.